Ciao bambini, ciao bambine! Eccoci di nuovo qui con una nuova consonante, la consonante V. Come le altre consonanti, anche la consonante V è amica delle vocali, che sono A, E, I, O, U. Anche la consonante V con le vocali forma delle bellissime sillabe. Andiamo a vederle insieme. La V con la A diventa V di vaso. La V con la E diventa V di vela. La V con la I diventa V di viola, che è un bellissimo fiore. La V con la O diventa V di volpe. La V con la U diventa V di vulcano. Allora, ripetiamo insieme. Va di vaso. V di vela. V di viola. V di volpe. V di vulcano. Adesso leggiamo insieme solo le sillabe, che sono formate dalla consonante V e dalle vocali. Va, ve, vi, vo, vu. Bravissimi bambini e bambine, state diventando veramente bravi. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Mando un caro saluto a tutti e a voi, bambine e bambini, tanti bacini.